Quante buone anime mi pregarono di incominciare l'opera da Piacenza facendomi osservare che era una città tranquilla. Dimmi amore mio, è stata opera tua questa di fermarmi a Piacenza? Quando il crocifisso per la terza volta si è staccato dalla croce dopo averlo aggiustato ben bene con i chiodi, lei ha capito, ha detto sono io che devo salire adesso. Il corpo di Madre Rosa è a Roma, però la spiritualità, la vita spirituale è qui. Sembra che le mura parlino di Madre Rosa, perché chi entra in questo ambiente sente qualcosa. Per dire che lì c'è il corpo ma qui c'è lo spirito di Madre Rosa.